Cara, il carnevale per me è sempre stata la festa più bella che Dio abbia mai inventato. Colle e tempera. Colle e tempera. D'amore. E quanti strati fate? A due, tre, quattro, dipende, poi in certi posti dove vanno un po' più robusti lo facciamo anche, ne mettiamo più strati. Siamo a casa di Ireneo Passera che lui ci ospita tutti gli anni e l'anno scorso avevamo l'Arca di Noè, allora a luglio gli abbiamo fatto fare Noè e quest'anno invece sarà Sireneo. Qua stiamo preparando il carro dell'Octoberfest, più che per i bambini e per le mamme dei bambini. Come potete vedere stiamo facendo, siamo alla base, qua verrà un'occhiostrina, ci sono i fusti di birra, la verrà un bavarese che farà la pipì, però la pipì d'oro. Qua venendo avanti abbiamo gli Artifici del carro, questo è Amiati. C'è Yen, girati, ci filmano, tirai della carta pesta. Questo qua è il numero 10 del carro che è il nostro ideatore, il nostro maradona, noi siamo tutti i suoi schiavi, lui quello che è l'idea è, noi facciamo le coli. La colla è l'essenziale, la colla è l'essenziale per i carri di Carnevale. La sede del gruppo di Ragni, la sede era lì al muretto davanti al centrale, non chiamiamolo muretto del pianto, ma del rimpianto. Lì c'era la sede estiva, era lì, la sede invernale era sempre lì col paletò. E poi la vita di Charles era brillante perché si andava a letto alle due di notte, non era mica come adesso. Grazie. 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 Grazie.